Ben ritrovati gentili telespettatori per questa nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale, apriamo con un servizio che arriva da Portograro, parliamo di politica, un'intervista al consigliere Scarpa che ci dice come serva oggi una classe politica preparata. Nell'ultimo consiglio comunale, lei è esordito quando ha preso la parola, nei confronti di di Fagotto, il rappresentante dei 5 Stelle, gli ha detto bene, benvenuto finalmente tra noi, cosa intendeva? Intendevo quello che ho detto, l'amico Fagotto, che è una bravissima persona che stimo e che rappresenta i 5 Stelle in consiglio comunale per due anni, non si è certamente distinto per essere particolarmente critico nei confronti della maggioranza consigliare del sindaco e della sua giunta, quella sera l'ho visto particolarmente pugnace, l'ho visto impenuta da combattimento, se posso dire scherzando naturalmente, e quindi con un po' di ironia, penso che possa essere consentita anche un po' di ironia, gli ho detto benvenuto tra noi, dell'opposizione, visto che poi si è seccato, penso che gli sia anche passata, ma a volte nulla fa più male della verità, un vecchio detto che in questo caso penso sia appropriato. Comunque, Fagotto, se ci sei, batti un colpo. Ecco, guardi, lo sviluppo del Veneto orientale è inferiore a tutta la città metropolitana e forse a tutto il Veneto, questo significa che le spiagge, la costa che va da Iesolo a Bibione, diciamo che gli investimenti, i soldi che girano all'interno di questa costa non hanno un'influenza poi nell'entroterra, cioè lo sviluppo dell'entroterra non ha subito nessun vantaggio rispetto alla costa, cosa invece che ha fatto poi Treviso e Pordenone che sono usciti. Secondo lei, da consigliere comunale di Portuguaro e per cui dopo l'esperienza di governo, secondo lei cosa si dovrebbe fare per poter sviluppare questo territorio tenendo presente che poi le a costa non ci darà sicuramente una mano? La prima cosa secondo me è essere consapevoli della forza che ha in se stesso il Veneto orientale, o meglio questi 11 comuni del Veneto orientale, perché c'è il Veneto orientale certo, il Sandonatese e il Portuguarese, però il Portuguarese è quello che hanno interesse. Che è quello forse peggio ancora del Sandonatese. Ma è messo molto peggio del Sandonatese. Esatto, esatto, questo è vero. E allora, anche perché il Sandonate ha una serie di comuni grossi attorno, è vicina a Mestre. Comunque è un'analisi che ormai fanno i molti di Portuguare. Ma sì, è un'analisi sociologica, ma che faceva già il corso negli anni 80, insomma, quindi stiamo parlando di cose che sono risapute da almeno 30 anni. Per cui è un territorio che è rimasto fermo sostanzialmente. È rimasto fermo e per certi aspetti è andato indietro. Allora, Portuguaro e i comuni del Portuguarese devono prima di tutto, secondo me, prendere atto che hanno delle potenzialità. Le nostre potenzialità quali sono? L'ho detto altre volte, è proprio qui da voi. L'agroalimentare, il settore vitivinicolo, un artigianato che deve essere aiutato e sostenuto, il commercio. Noi ci sono ogni giorno decine di migliaia di persone che vanno al centro commerciale di Noventa di Piave, che è una cittadina con i portici artificiale. Noi ce l'abbiamo già in casa ed è originale. È una cittadina con i portici che ha 500 anni di storia. Tutte queste cose vanno messe a sistema e occorre poi costruire un vestito istituzionale a questa realtà economica che deve essere rilanciata. Torniamo a Musile di Piave, parliamo di AgriVillage, dove c'è un sì alla proroga. Vediamo di cosa si tratta. AgriVillage, sì alla proroga di 180 giorni. Il Consiglio Comunale ha accolto la richiesta della società Antonio SV di rinviare di sei mesi la firma sulla Convenzione Urbanistica per la riqualificazione dell'area ex Bisiole, la via del progetto. Se così non fosse stato, la variante urbanistica approvata un anno fa sarebbe scaduta e sarebbe stato bloccato anche il progetto di villaggio di prodotti agroalimentari. L'iter complesso, con parere e autorizzazioni di diversi enti che hanno richiesto più tempo del previsto, sono le motivazioni adottate dalla società di AgriVillage. Ma il gruppo consigliare di opposizione, insieme a Permusile, che si è astenuto sulla proroga, ha invitato il sindaco Susanna a verificare se lo slittamento sia davvero dovuto soltanto a motivi tecnici. Primi lavori dovevano partire ad ottobre, poi ad aprile, ora altri sei mesi, ha obiettato il capogruppo Trombelli. Questa proroga ha precisato il sindaco e utile anche al comune. Avremo bisogno di tempo per incaricare un consulente di verificare le fidei usioni della società di AgriVillage e controllare che tutti i documenti siano in regola. Si tratta di un progetto assolutamente nuovo, non ce ne sono altri in Italia. Abbiamo fatto delle previsioni di avvio dei lavori, non indicato una data certa. Meglio non avere fretta ed essere certi che tutte le carte sono in regola, a garanzia di tutti. Pur ribadendo, dubbi e preplessità, il consigliere di minoranza Roberto Montagnier ha confermato che è interesse comune che il progetto vada in porto e che in caso contrario non ci siano ricorsi e cause infinite per il comune. Ancora a Porto Groaro, siamo stati all'istituto Ipsia per un restauro importante di un vecchio trattore che è stato riportato a nuovo. Ascoltiamo l'intervista al preside, la professoressa Raffaella Guerra. Siamo con la preside Raffaella Guerra che è preside dell'istituto Ipsia qui di Porto Groaro. Ristrutturare oggi questi mesi che hanno rappresentato appunto la storia del nostro territorio, la storia contadina, rappresenta anche per i ragazzi la possibilità di parlare di storia. Sì, ed è quello che cerchiamo di fare ogni volta legando la storia anche a quelle che sono che è l'evoluzione tecnica per rendere più significativo quello che noi proponiamo agli studenti. Questo progetto è stato un'occasione di questo tipo di grande interesse per i nostri studenti perché hanno potuto mettere le mani su un pezzo che rappresenta anche la storia del territorio. E sicuramente possiamo dire rimarrà nella loro memoria questa esperienza oltre che pratica ma diciamo anche appunto di cultura, di storia, di conoscenza che oggi i giovani molte volte sono distratti da altre attività e quindi magari hanno poca occasione di guardare indietro. Ma forse occasioni ne hanno tante. È che le sono a volte troppe e un incarico che abbiamo noi della scuola è quello di selezionare queste occasioni e di dare loro un significato legato a quello che potrà essere anche il loro futuro. Il professor Lena Luigino che ha curato, ha seguito i ragazzi in questo progetto di ristrutturazione inserito quindi nei programmi anche dell'Istituto di ristrutturazione di automezzi ma in questo caso di un trattore antico. Possiamo parlare di una revisione completa dalla parte elettrica, dalla parte carrozzeria, dalla parte anche motore perché oggi il trattore si mette in modo e quindi è in grado di camminare, di muoversi in strada. Professore, ancora una domanda. Quanto i ragazzi in questa opera, quindi di studio, in questo progetto, veramente possono trovare una realizzazione a quelle che sono poi le materie teoriche? Ma diciamo che questa è l'applicazione delle materie teoriche, chiaramente poi riversate sulle parti pratiche. Il rifacimento dell'impianto elettrico è una prova, nel senso che hanno dovuto sostituire completamente i fili che erano marciti e quindi hanno dovuto rifarlo completamente e di conseguenza anche se c'è tanto lavoro manuale ma c'è anche comunque un approfondimento di tipo tecnico perché altrimenti non funziona. Al via la stagione concertistica di Bibione che anche quest'anno riunisce l'eccellenza della musica sagra internazionale per dare vita a un fitto programma di eventi il cui protagonista si conferma l'imponente organo Zanin, uno tra i più completi e maestosi al mondo. Un calendario di appuntamenti che riscuotono ogni estate un grande successo di pubblico e che quest'anno avrà inizio il prossimo 21 maggio con l'esibizione del maestro Gabriele Ghiozzi, vincitore del quarto concorso organistico Rino Benedett. Il 28 maggio, domenica dell'ascensione, sarà la volta del maestro Enrico Zovanello, mentre il 30 è prevista l'esibizione di Jan Kigoud. A giugno si entra nel vivo della stagione musicale, il 3 si assisterà al concerto del maestro tedesco Ludger Lohmann per il quinto festival organistico internazionale Città di Bibione ed è prevista per il giorno successivo la finale del quinto concorso organistico Rino Benedett. Sempre a giugno il programma prosegue con i concerti d'organo dei maestri Ruggero Livieri, il 6, Etienne Vallain, il 9, Camille Mica e Martin Basco, rispettivamente l'11 e il 13. Adesso andiamo a Concordia Sagittaria al Via, le iniziative per accogliere i turisti. Ascoltiamo l'intervista al Sindaco Odorico. In compagnia del Sindaco di Concordia Sagittaria Claudio Odorico, qui in una serata dove si sta svolgendo una cena romana, cioè voi avete una delegazione di Caorle e di Bibione, di operatori turistici e anche di amministratori dove avete fatto visitare e fatto conoscere Concordia. Sembra che tutti conoscono perché vivono qui vicino, invece non è così. Questo perché poi loro possono trasmettere ai turisti le bellezze di Concordia. Qual è la sua impressione di questa serata? Sì, noi abbiamo fatto questa iniziativa che fa parte di una serie di iniziative che le abbiamo chiamate quest'anno Cene Romane. L'anno scorso avevamo fatto gli aperitivi archeologici. Sono tutte iniziative che sono periodicamente fatte a Concordia e servono appunto per, all'interno di un evento conviviale, portare le nostre bellezze archeologiche e valorizzare quelli che sono i nostri beni archeologici. La proposta che abbiamo fatto oggi è appunto alle amministrazioni comunali ma anche agli operatori turistici di Carole e Bibione è proprio questa, quella di dimostrare e mostrare quelli che sono le nostre bellezze archeologiche e insieme a loro abbiamo fatto questo giro e molti di loro che pur essendo abitanti a Carole e a Bibione, a San Michele, non avevano contezza di quella che era la realtà archeologica del Comune di Concordia. Noi abbiamo dei beni archeologici immensamente grandi secondo me, questo è un vanto che come sindaco mi sento di dire, che stiamo cercando di valorizzare anche all'interno di un'offerta turistica che possa in qualche maniera allungare la stagionalità delle spiagge perché questo è lo scopo secondo me e questa è una proposta che a livello di turisti europei penso sia valida e buona. Oltre a questo abbiamo anche tutto il sistema ambientale che unisce le nostre realtà comunali sia di Carole che di Bibione. Facciamo due appelli, visto che la nostra emittente vede tutto il nord Italia per cui abbiamo i turisti che vengono a Carole o a Bibione che qualcuno conosce Concordia ma soprattutto ci rivolgiamo a quelli che non la conoscono, che possono informarci sugli alberghi e su di non perdere l'occasione di vedere questa bellissima cittadina dove oltre che alla cultura c'è anche comunque mangiare e bere, insomma che uno riesce a fare una bella giornata. C'è una buona offerta gastronomica. Concordia sembra strano ma è molto conosciuta a livello di studiosi ma poco conosciuta a livello di realtà di persone che anche interessa magari è l'archeologia turistica. È vero, Concordia offre anche altre cose, è anche vero che però bisogna venire a vivere la Concordia, bisogna venire qui, a venire a trovarci e vedrete che resterete soddisfatti perché l'offerta sia inno gastronomica, turistica, archeologica e ambientale è molto valida. Grazie signor Sinaco. E a Cinto Coamaggiore è stato presentato il libro del Vice Prefetto Natalino Manno. Nel servizio è stato avvicinato ai nostri microfoni da Gian Piero Del Gallo. Oggi abbiamo con noi dottor Domenico Natalino Manno, Vice Prefetto della provincia di Venezia, autore di un libro, di un libretto che sinceramente ha sorpreso e sta sorprendendo chi ha avuto il piacere e l'onore di leggerlo come è stato scritto. E non è semplice, è sembra una cosa facile, ma scrivere un romanzo a ritroso, dottor Manno? Beh, è difficile soprattutto perché ci si mette a nudo e allora io l'ho fatto senza condizionamenti, cercando di riscoprire la magia, l'incanto, l'entusiasmo della fanciullezza. Ed è stata anche un'occasione per rivivere dei momenti bellissimi che hanno contraddistinto la mia infanzia. È anche un modo per rappresentare il contesto sociale di un paesino che si avvicina molto a Cinto. Ecco perché io sono qui proprio per dare omaggio e rendere onore a questa comunità che mi ha accolto quando sono stato commissario e quindi è per me una grande gioia condividere questa esperienza in questo bellissimo contesto. Cosa si può dire di Natalino Manno, la differenza di quello che era Natalino Manno di quello che è oggi? Perché diciamo che i presupposti non erano quelli che oggi hanno portato Natalino Manno a ricoprire una carica così importante. I presupposti sì, effettivamente io da piccolo ero veramente un delinquente, ne combinavo di tutti i colori, quindi avevo una grande energia e cercavo di relazionarmi non soltanto con i bambini, con gli altri bambini, con i miei coetani, ma soprattutto con il mondo adulto, con gli adulti. Mi ponevo in una posizione quasi paritaria e cercavo di contrappormi, di battagliare, di gareggiare e soprattutto di difendere anche quelli che sono i miei diritti. È importante riscoprire questa dimensione, cercare di dare spazio alla propria libertà, alla propria fantasia. Oggi purtroppo i bambini sono presi da altri giochi, dai giochi elettronici, magari si perdono dietro uno smartphone, dietro una playstation e magari mortificano in questo modo la loro fantasia. È bene invece recuperare la libertà, la fantasia, l'entusiasmo della fanciullezza. Lei invece si sentiva completamente diverso al punto di sentirsi il proprietario di una strada. Sì, io passavo, ecco, la maggior parte della mia vita la passavo in strada, quindi forse una volta erano tempi diversi e magari c'era, ecco, si aveva più fiducia negli altri e nel prossimo e i bambini vivevano in strada, vivevano proprio la loro dimensione con naturalezza per strada e quindi io mi sentivo il proprietario di quella strada. Avevo ben poco e quindi cercavo di trovare qualunque tipo di stratagemma per soddisfare anche le mie esigenze, i miei desideri, i miei bisogni. Al punto di mettere una, il nylon, la famosa corda di nylon di traverso, no? Per così che qualcuno incerfasse. Ed è vero, è vero. Quindi tutto quello che è stato raccontato nel libro corrisponde a verità. Però poi alla fine mi sono ripreso, ecco, dopo la quinta elementare con la prima media, ecco, tutte queste energie che avevo sono state incanalate e mi sono dedicato allo studio. Quindi è importante lo studio, lo studio che poi mi ha consentito, ecco, un riscatto di carattere sociale e poi la promozione e l'arrivo al lavoro che sto facendo in questo momento. Per fortuna un pelle rossa traditore in meno. Ma un uomo dello Stato che deve garantire la legalità. Però non bisogna mai dimenticare quello che si è stato, perché noi siamo attualmente quello che siamo perché siamo stati. Quindi è importante non dimenticare le origini, le proprie origini e quello che si è stato. Parliamo ancora di artisti. A Portogruaro, Giorgio Fagotto ci presenta l'artista Edo Janic. L'ospite che oggi presentiamo è un ospite veramente importante per il nostro territorio. Si tratta del professore Janic Edo, che si chiama Edoardo. È stato professore Abrera. In chiama, professore? 2014, mi pare. Ecco, l'Accademia quindi è stato un momento di soddisfazione perché se l'hanno chiamata vuol dire che lei ha quel livello e quel livello non è da tutti. Difatti Shasha, lo scrittore, diceva possiamo contare nelle dita di una mano gli incisori veramente grandi in Italia adesso. e si riferiva anche al signor professore Janic Edo. E quindi io ho avuto una grande fortuna di averla conosciuta perché sono stato anche a casa sua e che cosa ho scoperto? Ho scoperto un uomo. Un uomo che ha dedicato una vita alla cultura. E questa cultura l'ha sintetizzata nelle opere che chiamiamo d'arte ma che non si limitano solo alla scultura, che sono cose incredibili ma anche all'incisione, ma anche all'opera pittorica, ma anche al disegno. Insomma, direi che proprio... Ma tra i suoi avi c'era qualcuno che è il professore che le ha trasmesso, che le guida la mano tra i suoi avi antichi Tra i miei avi c'è il padre di mia madre che si chiamava Edoardo Pollonio ed era venuto militare a Valvasone, credo che ha fatto militare a Casarsa e faceva lo scultore e andava a lezione da un certo dell'Occa Bianca a Trieste e allora siccome anche fisicamente ci assomiglio, dalle fotografie ci assomiglio ho pensato un po' dopo aver iniziato il lavoro di aver preso un po' la mano di aver continuato un filo. Lui non l'ha continuato. Io parlando con lei, vedo che ogni opera, intanto non copia mai da se stesso, proprio mai, e ogni opera è frutto di un percorso, di una sintesi plastica del suo pensiero che effettivamente... ho provato dei brividi, io raramente provo i brividi, ma a casa sua ha provato i brividi. Adesso poi sta esponendo anche dove? A Sesto a Regna, nella sala del comune, un posto meraviglioso. Chi non lo conosce, se ci va, troverà una cosa... non l'edificio è bellissimo, ma è l'ambiente, è come se si fosse fermata un'energia in quel posto. Un'atmosfera. Quando uno va, poi è contornata da una roggia, e questa roggia sembra come isolare il mondo dal resto, ma c'è una tranquillità, una pace, un'energia che fa bene. Trova una medicina che non c'è nelle farmacie, non si trova. Questa medicina è una cosa di silenzio che entra dentro le persone. Provare per crederci. E ora un nuovo scatto dal territorio in fotoreporter, a cura di Vinicio Scortegagna. Finisce qui, gentili telespettatori, l'edizione del telegiornale del Veneto Orientale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon fine settimana.